Il momento di oggi è che i giapponesi sono una grande squadra, abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo vinto, naturalmente siamo in fase di costruzione, il lavoro in corso dobbiamo ancora migliore in tante cose, abbiamo approfittato per provare anche quei stroposti perché ovviamente il suo allenante per la prossima settimana con Macerata non ci sarà, quindi dobbiamo trovare delle soluzioni nuove. Il bilancio questa settimana? Eh beh, io ancora sono rimasto dispiaciuto per la paella da ieri con Vincolenza che secondo me dovevamo vincere, abbiamo commesso un po' troppi errori, però spero che in queste partite ci servano per esperienza, per migliorarci nelle prossime partite.